Limitare i danni in vista dell'estate con un senso unico alternato e poi abbatter e ricostruire il ponte sul fiume Asa. Giovedì prossimo potrebbe essere un giorno cruciale per il futuro del traffico veicolare sulla litoranea di Salerno all'altezza del comune di Ponte Cagnano. Il ponte era stato chiuso per problemi di sicurezza legati alle criticità strutturali riscontrate nella struttura in tema di stabilità. Il ponte è stato esaminato dai tecnici che propendono per l'abbattimento. In attesa di decisioni in tal senso il traffico è stato dirottato sulla Versana. Giovedì le prove di carico e poi il progetto esecutivo per abbattere l'impalcato e provare a salvare le spalle del ponte che andranno comunque rinforzate. Le conferme arrivano dal presidente della provincia di Salerno Michele Strianese e dal sindaco del comune di Ponte Cagnano Giuseppe Lanzara. Ponte Asa giovedì facciamo delle prove di carico già previste e organizzate dalla provincia ovviamente insieme all'università. Per verificare la possibilità che nel frattempo che si inizino i lavori possa essere riaperta una corsia al transito veicolare. Quindi facciamo in modo che si possa riaprire e non isolare completamente la zona come lo è adesso purtroppo. Io mi rendo conto dei disagi ma abbiamo trovato una situazione davvero difficile, pericolosissima. Stiamo già facendo il progetto esecutivo per abbattere l'impalcato che va appunto abbattuto e riusciamo forse a salvare le spalle del ponte che però vanno rinforzate con delle palificate e questo ci permetterà di realizzare le opere in tempi più ridotti. Per cui ci vorranno ancora dei mesi. La regione Campania ha dato la disponibilità a sostenere il finanziamento dell'opera, il governatore De Luca e stiamo appunto cercando di capire con la redazione del progetto esecutivo la somma che ci vorrà, che sarà comunque di centinaia e centinaia di migliaia di euro. È fondamentale, è imprescindibile partire sicuramente dalla sicurezza dei cittadini, quindi è evidente che se non vi erano le condizioni di sicurezza di quel ponte è stato giusto chiuderlo, ma allo stesso tempo la sicurezza vuol dire anche non creare dei ghetti, non creare delle condizioni di rischio, di pericolosità anche per quella zona, per quel tratto che già va completamente riqualificato. Per questo la proposta è quella di fare ulteriori approfondimenti per capire se con un divieto per i mezzi pesanti e con il senso alternato dei veicoli si può riaprire la strada, anche perché comunque a breve arriverà l'estate e quella zona deve essere ripresa completamente anche con iniziative culturali, turistiche. Quindi se giovedì ci saranno appunto queste verifiche, ci daranno l'ok a poter aprire a senso alternato, io chiederò al Presidente urgenza nell'apertura per ridare dignità a quel territorio.